60 anni fa moriva Giuseppe Di Vittorio. Il ricordo anche a Lecco con un convegno in programma il 10 novembre. Ospiti importanti. Sì, quest'anno la Fondazione Nazionale Di Vittorio ha deciso di tenere tre iniziative a livello nazionale per ricordare Di Vittorio i 60 anni della morte. L'ultima si è svolta il 3 novembre a Cerignola, a cui abbiamo partecipato come Camera del Lavoro di Lecco. E la prossima è appunto il 10 novembre qui nel Salone Di Vittorio della nostra Camera del Lavoro. Sarà un convegno sui temi delle migrazioni. Il tema della migrazione è un tema molto attuale ma fu già affrontato da Di Vittorio in occasione del suo esilio a Parigi e con gli scritti che lui fece sulla rivista degli italiani, una rivista da lui fondata proprio in quegli anni tra il 36 e il 39. E affronteremo questo tema sia da un versante storico ma anche con un occhio al futuro, alle prospettive. Cosa significa anche per il nostro territorio il tema delle migrazioni, dalle migrazioni che escono, i frontalieri, il rapporto con la Svizzera e le migrazioni che entrano, gli immigrati, con tutto quello che ne consegue. Quindi un convegno di riflessione sulla storia ma anche sull'attualità nel nome di Di Vittorio. Con ospiti importanti. Ospiti molto importanti perché verrà concluso questo convegno dal segretario della Fondazione di Vittorio Carlo Ghezzi e interverranno diversi studiosi del CNR di Napoli, di Roma e dell'Università di Bergamo oltre alla presenza di Morena Piccinini che è la presidente nazionale del patronato Inca della CGL. Perché? Perché l'Inca in realtà ha lavorato e continua a lavorare in tutto il mondo con i suoi uffici per garantire agli italiani all'estero un'adeguata assistenza patronale così come avviene in tutte le sedi della CGL a livello nazionale.